Oggi vediamo i cappotti super moda per questo inverno. Ciao sono Patrizia, questo è il mio canale Patò74, è un canale dedicato alla moda, parliamo di tendenze moda, parliamo di come vestirsi e insegno anche a disegnare il figurino, a progettare le collezioni di moda. Ci sono sul mio canale molti video dove disegno. Oggi vediamo le tendenze che si sono viste nelle sfilate di moda, quella dei cappotti e inverno per cui magari ci stiamo già guardando intorno per prendere un nuovo cappotto. Le sfilate che ci sono state per questo inverno, di sicuro il nero, è un grande trend il cappotto nero, io ti ho messo Dolce Gabbana, Giorgio Armani, Versace, Serafini e se guardi qui non c'è nessun cappotto over, quindi attenzione a comprare il cappotto over adesso perché è una trend che sta finendo. Vediamo un outfit perché una volta che ti sei comprata il cappotto dici come me lo metto? Io cercherò di farti vedere delle idee di outfit che siano proprio facilissime. Allora primo outfit maglia in cashmere, 100% cashmere, One Cashmere è un brand che produce cashmere a un prezzo accettabile perché i prezzi sono ottimi per essere cashmere. Ci mettiamo questo bel dolce vita, se non ti piace col collo lo prendi a giro, poi ho trovato i pantaloni gessati grigio di tagliatore, diciamo che pantalone gessato in 100% lana e poi ci mettiamo il tuo cassino, se lo vuoi lo puoi prendere in vernice oppure in pelle normale e qui in poco tempo abbiamo ricreato un bellissimo outfit per il tuo cappotto nero. Allora vediamo un altro outfit perché in questo video sì ti faccio vedere le tendenze però ti faccio anche vedere qualche, ti do anche qualche idea per gli outfit. Qui quelle di voi che si spaventano e vedono una mini gonna state tranquille vi faccio vedere anche l'alternativa con una gonna più lunga. Allora ovviamente scollo V perché ci dobbiamo mettere sotto la camicia, 100% cashmere, questo è Mao Ghani, azienda italiana, spero di non averlo pronunciato male, brand italiano che anche questo produce cashmere. Poi ci mettiamo sotto una bella camicia bianca di Nara che è specialista, se tu vuoi una camicia che ti piace la camicia, Nara ne ha di tutti i generi sia da uomo che da donna, ma da donna veramente ha sempre fatto camicia nella maggior parte dei casi. Minigonna, non ti spaventare ti farò vedere l'alternativa, questa è una minigonna in cotone, in gabardina che quando si tratta di certi tipi di gonne possono andare anche d'estate perché è una gabardina cioè un cotone perfetta. Ci mettiamo sotto il calcino, allora io sul discorso del calcino metto sempre il punto interrogativo perché taglia la figura quindi accorcia la gamba, però è una moda, è una tendenza a portare il moccasino col calcino, fate voi e ovviamente questo bel moccasino Levis, quindi moccasino brand Levis su questo grande distributore. Direi che abbiamo riprodotto questo bell'outfit però se la gonna corta ti spaventa direi che c'è l'alternativa di questo bel tubino con filato riciclato e tu sei perfetta. In poco tempo maglioncino, camicia, tubino oppure gonna corta, calcino un po' più spesso e moccasino e tu sei super trend col tuo cappotto nero. Allora l'outfit col maglioncino sulle spalle è molto quiet luxury magari anche se ti piace il berrettino blu con il pantalone in ecopelle e l'anfibio, anche l'anfibio è una tendenza, oppure la maglia righe anche quella è una tendenza col pantalone chiaro magari crema lungo che copre la scarpa. Se ti piace un po' il mondo dell'animalier, il tubino con una stampa animalier abbinato allo stivaleto col tacco basso, io andrei anche a usare con dei punti di colore con le maglie come vedi in fondo quella verde a un punto di colore e qui ti faccio vedere come personalizzare il tuo cappotto nero. Personalizzare il cappotto cosa vuol dire? Che una volta che hai il cappotto è quello, come fai a renderlo solo tuo? Lo rendi solo tuo col tuo tocco di stile con gli accessori, la sciarpa, il berrettino, i guanti, la borsa, le scarpe, come tu abbini queste cose che aggiungi al cappotto ecco lì ci metti proprio il tuo tocco col tuo gusto e io qui ti faccio vedere degli esempi, può essere sì la sciarpa verde col berretto verde ma puoi arrivare fino al pink se ti piace, come abbini il bello del cappotto nero come anche altri cappotti che tu ci aggiungi gli accessori e lo rendi tuo, lo personalizzi proprio col tuo stile. Altro esempio qui ne vedi anche magari sciarpe un po' meno colorate magari piede pull con una stampa plaid, la borsa un po' a contrasto magari beige o cognac insomma gioca con gli accessori e poi la cosa bella è che ogni giorno puoi cambiarli, hai due tre sciarpe una volta ne metti una una volta ne metti un'altra e comunque dai sempre un'immagine diversa al tuo cappotto quindi mi raccomando giocate con gli accessori. Altro super trend assolutamente il grigio, grigio grigio grigio, d'inverno entra un po' nel mondo del gusto un po' maschile per certi versi però se guardi in queste foto Fendi, Max Mara e Bottega Veneta sono le prime tre, l'ultima è Jill Sander, è l'unico che ha fatto l'over. Attenzione perché l'over sta finendo, vedete come le vestibilità di questi cappotti non sono più over e direi anche meno male perché qui c'è un outfit facilissimo cioè se ti prendi il cappotto grigio questo è facile da fare ragazze, abito lungo grigio con stivaletto grigio in tono e il tuo bel cappottino e la borsina questo è facilissimo. Su Mau Ghani, spero di non pronunciarlo male, bellissimo abito lungo fino alla caviglia, bello lungo in 100% cashmere con il collo morbido grigio perfetto tra l'altro 100% cashmere se non vuoi portare le calze sotto l'abito quella cui dà fastidio portare le calze d'inverno con un abitino 100% cashmere tu poi sei a posto, puoi portare a evitare anche di portare i collam perché tiene caldissimo e cashmere. Andrei poi ad aggiungere a questo abito, questo l'ho trovato sul sito di Giuseppe Conca, del brand Giuseppe Conca, tivaletto col tacchettino basso per quelle che non amano i super tacchi questo è comodissimo, scamosciato grigio arricciato e qui entriamo nel mondo delle tendenze delle scarpe, ti ho fatto un video dove ti parlavo delle scarpe moda, questo è super trend perché è super alla moda da mettere sotto l'abitino grigio, poi alla fine di tutto ci mettiamo la bella borsina trovata su Pelletteria Marant di questo color nude, tre pezzi semplicissimi per il tuo cappotto grigio ed è chiccosissimo come abbinamento facile facile facile, poi un abitino in cashmere ti tiene super caldo, questa è l'altro brand Maogani che ti dicevo che fa cashmere sia da uomo che da donna e accessori dove trovare il cashmere. Ora andiamo sempre col tuo bel cappotto grigio a fare un altro outfit facile, direi che è tutto in jeans stile Gucci, jeans della Levis che sono specialisti, gamba ampia, questo ha la gamba larga e ha il punto vita alto, ci mettiamo la camicia di jeans sopra, questi sono tutti pezzi che alla fine io quello che sto facendo vedere nel video sono degli outfit facili e che poi quando hai quei capelli lì puoi far girare tra di loro, bella borsa in pelle vera di tuscani later in questo color cognac, color nocciola molto bello, ci mettiamo sotto il tronchetto che anche quello è una tendenza nelle scarpe, color torto la proprio stile Gucci e tu qui poche mosse sei super trend e hai il tuo outfit, qui l'ho fatto un po' più sportivo, da giorno un po' più trend perché tutto jeans, il trend del vestirsi tutto in jeans c'è ma non è difficile da fare ragazze, cioè basta avere il jeans a gamba larga e poi ti prendi una camicia di jeans che la userai anche per altri outfit, detto questo vediamo che il grigio sta bene con il rosso, se a te piace il rosso, il rosso è una tendenza e si abbina molto bene il grigio, ovviamente se non vuoi vestirti tutta di rosso puoi mettere o il maglioncino o la borsa, volendo anche la felpa, io non sono un appassionata della felpa sotto il cappotto perché ingoffa, fa troppo spessore, gonfia troppo, come vedi il grigio è perfetto con il rosso, se tu vuoi metterti anche il rosso, grigio e rosso stanno benissimo, anche il color cognac nocciola, questo marrone chiaro, come vedi anche qui negli outfit il grigio sta benissimo con questo tipo di colore, nel primo outfit è spezzato col nero quindi hai la gonna in ecopelle con la maglia e la calza nera e il tuo cappottino grigio, oppure portato anche con i pantaloni se vuoi anche qui in ecopelle il maglioncino o solo il maglione, vedi come questo colore sta molto bene con il grigio, è questo nocciola, questo marrone chiaro, ci puoi anche mettere il pantalone di jeans e avere solo la maglia, perfetto, secondo me questo ha questi abbinamenti di colore ragazza è stupendo, il primo non è un cappotto ovviamente ma per farti vedere come il grigio col rosa e col bianco è meraviglioso, è chiccosissimo e oltretutto lo puoi declinare anche in modo sportivo, dipende da che capi sono, però ragazze grigio, rosa e bianco pazzeschi, è come abbinamento strepitosi, poi quando sento dire che il grigio è noioso ragazze cioè bisogna anche sapersi vestire perché se uno si sa vestire diventa veramente pazzesco come colore, meraviglia delle meraviglie, grigio, bianco e rosa, scrivete, scrivete, allora poi veniamo al discorso di aggiungerci gli accessori, qui ti faccio vedere magari degli abbinamenti un po' più soft se non vuoi proprio andare su delle cose un po' più contrastate, c'è il tartan, questi effetti played, magari anche il bordo scuro, abbiamo parlato prima del rosso, cioè con il grigio sta bene tutto, se no vai sugli abbinamenti un po' più soft, grigio su grigio, grigio col nero, grigio col bianco e nero, cose facili, però mi raccomando rosa con rosa e bianco è bellissimo, è bellissimo. Altro colore di super tendenza ma questo andrà sempre, sarà sempre di super tendenza, direi il cammello, qui abbiamo Max Mara, da Max Mara ad Hermès, io ti farei notare come anche qui non c'è la vestibilità over, il capotto di Max Mara è il primo, cade giù ad A, ha la spalla scesa e va giù morbido, largo, ampio, non è una vestibilità over questa di Max Mara, attenzione, fino ad arrivare a Hermès che proprio l'ha fatto super asciutto con la sua cinturina, perfetto. Vediamo un outfit facile anche qui, ti voglio darei proprio delle idee per divertirti con questi cappotti, andiamo a prendere un bel pantalone sartoriale con le pieghe lungo, ampio, comodissimo, ci mettiamo la bella dolce vita, la scarpa bianca e nera, la sneaker di Tommy e poi la tua bella sharpina, 100% cashmere, tu sei perfetta, grigia e tu hai un mix sofisticato, perfetto, da giorno, che zero secondi l'hai fatto. Altro outfit, qui voglio fare una cosa un po' più sportiva, nella foto c'è una maglia nera ma io ci voglio mettere una bella maglia a righe perché le righe sono anche queste, è una tendenza, righe e cammello, le mettiamo in tono col cappotto, pantalone cargo, largo, nero, anche questo pantalone cargo, una tendenza, ok ci mettiamo sotto il pantalone cargo, super trend con le tasche, il berrettino in 100% cashmere così stai anche calda, in tono col cappotto, cammello e poi la borsa stile che ricorda molto lo stile di Hermès di Tuscanilater, 5 secondi abbiamo ricreato questo stile tipo la foto che è bello, è divertente, è un bello stile divertente, se il cappotto cammello lo vuoi portare con degli abbinamenti più soft, dalla gonna a tubino, in maglia, che adesso si usano le gonne in maglia a costina, con lo stivale fatto a calza alto, all'abitino grigio, magari quell'abitino grigio che abbiamo visto prima, col tuo stivaletto a calza nero, io qui sotto lo stivaletto nero taglia un po' la figura, però vedete voi, la tuta sotto color panna, ribadisco che secondo me la tuta sotto il cappotto è goffa, nel senso che prendi 4 taglie in più come ridere, senza roba qui dopo quando ti metti una tuta sotto un cappotto, ti serve un cappotto di una taglia in più per starci, perché la tuta è spessa, io eviterei di mettere le tute sotto il cappotto, le felpe, le tute, però fate voi, ecco. E poi il classico abbinamento più facile del mondo, maglia a righe con jeans, cioè lì è facilissimo, però qua direi di ragionare col cappotto anche qui con dei punti di colore, perché se tu giochi con gli accessori puoi personalizzare, cioè il cappotto nero, il cappotto grigio, il cappotto cabello come sto dicendo, come stiamo vedendo adesso, sono tutti cappotti che volendo sono neutri, ti scegli il colore che ti piace e lo personalizzi, lo rendi diverso, ogni volta che te lo metti lo rendi diverso con gli accessori, puoi dargli sia una nota più soft oppure un bel po' di colore, l'importante sarebbe scegliere cappellino e sciarpa dello stesso colore, non andarne a mettere troppi di colori. Qui vedi delle foto dove per dire c'è l'arancione, c'è il cappellino arancione, lasciar parancione, poi vabbè lì la borsina, però non andare a mettere 40 colori diversi, ecco un colore di accessorio sopra il cappotto e tu prendi una marcia in più, quindi il cappotto cabello se lo sai abbinare anche questo è divertente. Qui entriamo nel mondo di tutto il discorso del cioccolato, del caramello, ecco qui Max Mara ha fatto questo cappotto ampio, Boss idem e Sport Max, Boss e Sport Max qui mi sono andati sull'over, fate voi, però la percentuale, la quantità di cappotti over che si sono visti nelle sfilate è talmente poca che la cosa per fortuna sta finendo. Un'altra idea è bellissima questa, se hai il bel cappotto color cioccolato, mettici il blu. Prendiamo un bel maglione in lana merino e cashmere, blu scuro, quelli maglioni spessi di lana grossa, belli spessi col collo alto, sile marina, quelli belli però caldo, perché di Maison Cashmere fa anche qui un brand che fa cashmere. Merino e cashmere, lunga, avvolgente, calda. Sotto ci mettiamo un bel jeans della Levis con la gamba dritta che arriva alla caviglia, perché? Perché sotto si deve vedere la scarpa che è un tipo, una scarpa tipo Chanel che ho trovato del brand di Fabio Rusconi e in poco tempo abbiamo ricreato questo outfit per il tuo cappotto color marrone, color cioccolato, il blu scuro portato col jeans e con la scarpa Chanel. Zero secondi tu hai uno stile che è scicosissimo e facilissimo da fare. Qui andiamo su una cosa un po' grintosa, volendo, direi di prendere da Mahogany, quel brand che ti dicevo, una bella maglia in 100% cashmere, grigio scura, come nella foto di ispirazione. Ci mettiamo sotto un bel pantalone di motivi, questo pantalone a palazzo marrone, con le pez, comodissimo, ampio, una bella borsa nera che questa te la metti su qualunque outfit di pelletteria marante. La tua scarpa da ginnastica, questa è di puma, l'ho trovata subata che ha questo tocco di rosa che col marrone sta molto bene. Direi che in poco tempo abbiamo ricreato questo outfit. Qui siamo su un abbinamento di cappotti color caramello, color cioccolato, marroni, che possono essere abbastanza neutri con i vari tipi di marroni o li porti anche con sotto il nero, anche un pantalone in ecopelle, ci sta eh, i jeans siamo d'accordo che. Se no anche qui veramente io andrei a ravvivare questi cappotti con degli accessori colorati. E qui vediamo gli accessori per personalizzare il tuo cappotto. Cioè io ti faccio vedere degli esempi, dopo ognuna di voi farà quello che meglio crede, perché ti faccio vedere delle foto per darti ispirazione. La borsa argento, un argento un po' scuro, fatta così a bauletto. Vai a vedere, ho fatto il video sui trend delle borse di quest'anno e anche un video su dove comprarle a un prezzo stando nel budget. Borsa argento scuro, però un argento scuro eh, non quelli proprio troppo chiari. La tua sciarpa, in questo caso qui c'è questo pink scuro, ma poi la puoi mettere di un colore che piace a te, però col pink non è male, argento e pink. E poi dall'altra parte la borsa a secchiello, che anche quella è un trend, con la tua sciarpa in plaid, tipo plaid, abbinate. Vedi come? O metti l'argento, però un argento scuro, perché magari è un outfit giorno con rosa, oppure l'azzurro vai su un tuo bel secchiello. Diciamo che questi sono degli esempi per farti capire come accessori, borsa compresa, cambino l'impatto e personalizzano il tuo outfit. Blu, il blu si è visto, il blu si è visto, sì. Serafini, balli, cioè si è visto. Anche qui ragazzi le vestibilità sono queste, direi che siamo su delle vestibilità più facili da portare. Questo outfit secondo me è stupendo, il blu e il bordeaux, burgundy, chiamatelo come volete, però ci siamo capite, vedi la foto, blu e burgundy. Meraviglia con questo bordeaux. Vediamo di ricrearlo, tu hai il tuo bel capotto blu, ti prendi il tuo bel maglioncino, bordeaux, 100% cashmere, ci metti sotto un pantalone in ecopelle. Perché ho scelto l'ecopelle e non magari un pantalone in tessuto di lana? Perché essendo un colore bello intenso, si va a ravvivare l'outfit, a renderlo più grintoso, cambiando i tessuti, dando un effetto, cioè le texture, l'effetto che fa il tessuto, se sono diversi stacca, però è dello stesso colore, quindi l'ecopelle è un tessuto diverso dalla lana, quando ti vesti tutta in un unico colore fa quello stacco che lo rende grintoso, ma è sempre in tono. Questo bel pantalone in ecopelle trovato sul sito di InTrend, bordeaux, poi ci mettiamo sotto la ballerina a punta, che anche la ballerina a punta è un trend, in vernice, e poi sopra il tuo cappottino blu, perfetta. Capottino blu non poteva non farti un abbilamento stile parigino, è che va tanto di moda adesso, e qui bisogna farlo. Sono andata su One Cashmere e ho trovato questa bella maglia a righe in seta e cashmere, meravigliosa, morbidissima, stupenda, però sotto fa freddo, per cui anche se è seta e cashmere ci mettiamo un intimo termico, cioè una canotta in modal e cashmere, caldissima. Mi raccomando, cercate di mettere l'intimo sotto le maglie in tono, nel senso che sotto una maglia a righe, bianca e blu, conviene mettere una canotta bianca, che non si veda. Jeans cropped a vita alta, cropped vuol dire che arrivano alla caviglia, a vita alta, bellissimi. Cintura rossa, perché qui ci vuole la cintura rossa, su Pelletteria Marant, questa bella cintura rossa, e poi la borsa secchiello, trovata su Tuscanilater, quindi zero secondi abbiamo riprodotto quest'outfit. Vedi come alla fine è semplice, cioè ci sono delle foto che sembrano chissà cosa, poi vai a vedere bene, maglia a righe, cintura rossa, jeans, borsa secchiello, cappotto blu. Non spaventatevi quando vedete delle foto, perché alle volte è molto facile riprodurli questi outfit. Colore moda, questo qui è un color burro, non è panna, non è bianco, ma è proprio un color burro, spero che dal video si veda. Anche perché il cappotto bianco se ti piace prendilo, per carità, però è difficile da portare. Già questo qui è un colore chiaro che è un po' più facile, nel senso anche si sporca meno, meno delicato. Per le vestibilità qui calcaterra, che è l'ultimo, l'ultimo è questo è over, ma gli altri due no. E qui te la giochi con gli accessori, assolutamente, dagli accessori colorati al tipo plaid, e anche la tendenza del bianco e del nero messi insieme, la puoi riportare su questo cappotto color burro, mettendo tutto il resto degli accessori neri, è il terzo outfit. Quindi vediamo i colori intramontabili, questi sono gli intramontabili ragazze. Poi si sono visti anche i colori intensi nelle sfilate, è certo che si sono visti, però in passerella è tutto stupendo, è tutto meraviglioso, siamo d'accordo, è tutto bello in passerella. Il discorso è che poi della vita reale portare dei colori così ti deve piacere. Il problema dei cappotti lunghi, colorati, soprattutto lunghi, è che è finita la tendenza di quel colore, è finito l'incanto. Cioè è facile che ti stufi, dopo magari ti stufi di sto cappotto e c'hai una cosa nuova nell'armadio che l'hai messa cinque volte e non la porti più. Fate attenzione a valutare di trovare il cappotto dei vostri sogni prima quello da portare tutti i giorni. Questo può essere il secondo, il terzo cappotto, lo sfizio ecco. Però un cappotto base da usare tutti i giorni, se ti piacciono i cappotti bisogna averlo e non può essere quello super colorato perché rischia che fra un anno ti stufa e ce l'hai lì. E ti faccio vedere la differenza, vedi? Vedi la differenza che c'è tra il cappotto nei colori neutri e il cappotto nei colori particolari? Ti deve piacere, però è proprio una cosa diversa. Se tu vuoi ravvivare il cappotto, ti ho fatto vedere come usi degli accessori super colorati e lo ravvivi, lo personalizzi, lo rendi sempre alla moda con gli accessori perché c'è proprio una differenza netta e durano molto di più nel tempo come portabilità, se così si può dire. Il grigio, il beige sono esempi. Io te li ho voluti mettere vicino proprio per a colpo d'occhio farti vedere l'effetto che fa. È chiaro che se questi colori così intensi, così trend, così moda, li decliniamo nel pastello, vediamo l'effetto che fa. Va già meglio, è già più portabile perché bisogna pensare anche tutto quello che vedi sugli altri, sugli altri funziona sempre. Dopo quando me lo metto io e mi guardo la sensazione diventa diversa. Non è detto che me lo dice ma come in foto era stupendo, me lo metto addosso, mi guardo e dico oh mamma mia, no io questa cosa. Quindi attenzione a cercare più delle volte di provare la roba anche nei negozi. Oltre a comprare online ok, però qualcosina cercate di andare anche nei negozi a provarlo perché la sensazione è proprio mettendo una cosa addosso e sul pastello è più facile. Però ritorniamo al discorso che anche lì il pastello ti può stufare. Vediamo la differenza colori forti, colori pastello, colori forti, colori pastello. Magari colori pastello su fabelo può darare di più. Fate voi ragazze, fate voi perché sono lunghi quando si parla di cappotti lunghi. E qui veniamo alla tendenza del rosso. Il rosso è una super tendenza, super tendenza. Vediamo gli outfit ragazze, ma un cappotto. Adesso io il secondo te l'ho messo anche un po' più corto che arriva al ginocchio. Ma il cappotto lungo rosso? Va bene che è una tendenza, ma è tendenza il colore rosso ragazze. Chi è che, ma neanche a Natale ti vesti tutta di rosso. Il discorso è che è veramente difficile portare un cappotto rosso. Cioè il rosso è un colore di tendenza che è stato pensato e che funziona bene sui capi piccoli. Maglia, il pantalone, l'abitino, se vuoi anche gli accessori. Funziona bene, però io qui te lo faccio vedere la differenza di impatto che fa il cappotto rosso lungo e i vari pezzi che tu te la puoi giocare. Poi se ti piace il cappotto rosso prendile, ho nessun problema. Il discorso è che anche i brand lo sanno che una su mille si compra un cappotto rosso per cui nell'ottanta per cento dei casi fanno cappotti di altri colori e il rosso te lo giochi con le maglie, i pantaloni, gli abitini, gli accessori. E ti dirò che io adoro il rosso. Il rosso è un colore che piace tantissimo, quindi sono contenta che sia tornato di moda perché così me lo posso mettere tranquillamente. me lo metto anche quando non va di moda, perché quando ti piace il rosso, cioè un colore in particolare ti piace, ti lo metti. Ecco, direi che pur amando il rosso io un cappotto rosso non me lo sono mai preso. Lungo, ecco. Un po' più corto sì, ma lungo no. Andrei più su un discorso che si sdrammatizza un po', è il piumino. Cioè l'ora di piumino, l'imbottito, quello sì, corto, non... cioè che copre il sedere sarebbe il massimo della lunghezza. Allora sì, rosso si può fare, lo riesci a portare di giorno tranquillamente, lo abbini un po' con tutto. E quindi prima di dire va di moda il cappotto rosso, ci penserei. Ecco, andiamo più, va di moda il rosso, ma sui cappotti dipende sempre da cos'è, perché non tutti i colori funzionano bene su tutti i capi. E qui abbiamo visto l'esempio, come l'esempio del rosso. Fantasie, fantasie, fantasie. Dalla fantasia played, al piede pool, al quadrettino piccolo, fino ad arrivare a tutto il mondo delle fantasie maschili, sale pepe, la resca. Belle, molto belle. Chiaramente ognuno ha i suoi gusti, quindi ci saranno quelle di voi a cui non piacciono, però ci saranno che quelle di voi a cui piacciono. Fantasie comunque sono un trend, ragazze, sono un trend. Attenzione a questo però, per quelle di voi a cui piacciono le fantasie fate attenzione a questo, nel senso che non deve sembrare proprio una coperta. E com'è che non sembra una coperta? Non sembra una coperta quando hai dei colori fusi, che sono morbidi, non sono troppo contrastati. Se è una fantasia, se è un quadratino con poco contrasto, non sembra una coperta, ma se c'è tanto contrasto veramente l'effetto è che ti sei messa la coperta, però quello è l'effetto. Quindi fate attenzione a scegliere le fantasie. Questo è molto facile, cioè se vai su dei mondi del genere anche qui non ti stufano. I grigi, i beige, i piede pul, cioè possono essere... Io qui cerco di darvi delle idee per farvi capire. Poi ci sono milioni di effetti played, ecco, però non andate a prendere quelli proprio sparati, super contrastati, perché fanno l'effetto proprio coperta, coperta. Questi mondi qui vanno bene, te l'ho fatto vedere, anche l'ultimo addirittura un rosso, però essendo un rosso scuro lo porti, perché è rosso scuro, altrettutto è anche corto al ginocchio. Direi che le fantasie, anche se ti piacciono, sono belle. Poi il piede pul, apriamo una parentesi sul piede pul, che è stupendo. Qui ti faccio vedere come mettendoci una maglia sottocolorata, se vuoi anche il calcino, se hai una scarpa, tipo se metti un mocassino che si vede la calza, il calcino abbinato alla maglia, tu gli dai un tocco di colore, bello grintoso, e qui ti faccio vedere degli esempi, sta anche molto bene. Facile da portare, perché tu hai il tuo pantalone pulito, sartoriale, sai quello come si usa adesso, ci metti maglioncino e calcino dello stesso colore, e il tuo bel cappotto in piede pul, stupendo. Direi che abbiamo visto tante cose su questi cappotti, sia quelle che sono le tendenze come colori, abbiamo visto alcuni outfit facilissimi da fare, e spero che questo video ti sia piaciuto, ci vediamo tutte le settimane sul mio canale YouTube, vai a vedere il video che parla delle borse, tendenze delle borse, tendenze delle scarpe, ci sono diversi video sul mio canale che ti aiutano a vestirti, anche facendo attenzione a delle cose che magari noi, cioè nella vita di tutti i giorni, uno corre, fa, non se ne accorge, osservate come stanno addosso i capi, mi raccomando. Sul mio canale insegno anche a disegnare il figurino di moda, quindi trovi anche dei video per imparare a disegnare e colorare, noi ci vediamo tutte le settimane sul mio canale YouTube, e vi raccomando vai a trovarmi anche su Instagram, seguimi anche su Instagram, ci vediamo la prossima settimana, ciao da PatriciaPatto74, ciao!